. Uomini e donne, Camilla Mangiapelo insultata, l'ex corteggiatrice risponde. Critiche sui social a Camilla Mangiapelo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne risponde così. . Non è la prima volta che un volto noto di uomini e donne viene preso di mira da uno o più utenti del web. L'ultima ad essere insultata su Instagram, oggi, è stata Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. . Diversi followers che quotidianamente fanno sentire il proprio affetto alla ragazza ma, purtroppo, tra questi cè anche chi, poco carinamente, non perdi occasione per mostrare a quest'ultima il proprio disappunto. . Questa volta ad infastidire Camilla è stato un commento che poco aveva a che fare con il suo lavoro o il suo percorso a Uomini e Donne. . Un utente, sotto l'ultima foto caricata dalla ragazza su Instagram, avrebbe criticato senza mezzi termini l'aspetto della Mangiapelo. . Come sei diventata brutta ha scritto questo sul profilo dell'ex corteggiatrice eri più bella prima. . La ragazza di Riccardo Gismondi ha forse preferito lasciar correre questa volta? La risposta è no, non lo ha fatto. . . Ma tu chi sei per venire a scrivere qua sotto che mi sono imbruttita ha risposto lei ma chi te lo ha chiesto? Te lo dico io, nessuno quindi trovate un hobby frustrata ridicola. . Un botta e risposta, dunque, senza esclusione di colpi. . Camilla Mangiapelo, quando su Instagram ha accusato gli utenti di chiberbullismo. . Non è la prima volta questa che Camilla interviene sui social per difendersi contro gli attacchi gratuiti ricevuti da parte degli utenti. . L'ultima volta ad irritare particolarmente la ragazza erano stati alcuni commenti lasciati sotto una foto postata su Instagram di lei e Vittoria Deganello, attuale fidanzata di Mattia Marciano. . La presa di posizione della Mangiapelo però, stando agli attuali sviluppi, non sembra essere stata d'effetto. . La strada verso un uso consapevole e responsabile dei social, oggi come oggi, purtroppo sembra essere ancora molto lunga. .